Quali sono le ragioni e i motivi che l'annedotta ad accettare un così importante impegno? Potrei rispondere molto semplicemente la passione e l'amore per Gioiosa. In pochissime parole potrei dire che sono queste le cose che ti spingono a accettare un incarico così gravoso, così importante. Però non è solo questo, questo sicuramente è la scintilla che si accende dentro e che ti fa scattare la voglia di farlo. Ma intorno a questo c'è tutto un lavoro che è stato fatto nei mesi trascorsi insieme al gruppo Gioiosa in Movimento e insieme a loro tanta gente, tanti ragazzi, tanti giovani, tanti cittadini che ti sollecitano l'assunzione di questa responsabilità. Quindi l'amore per il Paese, la disponibilità, la passione e le sollecitazioni che ti giungono da tante parti. Ecco, quali sono le componenti sociali, politiche che stanno appoggiando e sostenendo la sua candidatura? Tutte, nessuna esclusa. È un gruppo molto variegato dove ci sono assieme esperienze, politiche e professionalità. Ci sono giovani che già sono stati impegnati in varie attività di volontariato, ci sono imprenditori, ci sono professionisti, quindi è abbastanza variegato. Abbiamo bisogno di un gruppo variegato, di un gruppo che abbia grandi capacità perché questo richiede in questo momento il nostro Paese. Quindi il coinvolgimento, la passione, il confronto continuo con i cittadini. Quindi questo gruppo si mette a disposizione per questa sfida che ci eseggiamo a affrontare. Avete già individuato come gruppo delle linee programmatiche o comunque delle priorità da affrontare per Gio Samarè? Sicuramente le priorità sono delle questioni risolte che sono sul tavolo e che bisogna affrontare da subito. Non scendo nei dettagli, ma sono diverse. Sul programma ancora ci dovremmo confrontare perché vogliamo fare un programma condiviso che nascerà dal confronto con le forze sociali, rappresentanti sindacali, con i giovani soprattutto, con le associazioni. Quindi il coinvolgimento a 360 gradi sul programma che insieme andremo a costruire e sul quale poi ci confronteremo con gli altri competitor. Ma quello sarà poi il nostro vademegum. Su quello lavoreremo e su quello ci impegneremo per dare risposte alla nostra collettività. Sono passati cinque anni dal suo mandato. Come trova Gio Iosa oggi? Trovo Gio Iosa ferma. È questo. Trovo Gio Iosa ferma, quasi rassegnata. C'è bisogno di farla ripartire, di rimetterla in movimento. Abbiamo scelto questo nome per il nostro gruppo, non a caso. C'è bisogno di metterla in movimento, ma per fare questo c'è bisogno del lavoro di tutti. Io ho messo a disposizione il mio tempo, la mia passione, la mia esperienza, ma non basta. C'è bisogno di tutto il gruppo, c'è bisogno di tutti i gioiosani. Ognuno dobbiamo sentire forte la responsabilità e assumercela in pieno. Perché soltanto con il coinvolgimento di tutti, con la partecipazione di tutti, penso che Gio Iosa si possa rimettere in movimento. C'è bisogno di tutti i gioiosani.